però la pandemia mi rende alla moda per la prima volta in vita mia io sono alla moda quando tutti hanno iniziato a vestirsi a cazzo di cane primo lockdown no è successo a chi cioè a me no a me è sempre un guai fedele alla linea di merda investivo ma c'è stato questo abbassamento dei costumi questo vestirsi peggio stava in casa pigrizia no il fatto è che nessuno ci vedeva non apparivamo a nessuno e infatti è rimasta nella memoria collettiva la roba delle chiamate di lavoro su zoom dove c'era la gente vestita bene fino alla cintola poi c'era gli slip di spongebob e i pantaloncini del crotone o il mutando cioè il mutando è il pantalone della casa quello brutto che tenete su cioè che a un certo punto si mantiene da solo lo togliete sta là tipo pantalone dell'uomo invisibile perché è successo perché non ci vedeva nessuno infatti il mutando l'abbiamo tenuto mesi e mesi in casa quando però uscivamo per andare a fare la spesa ci si metteva l'abito della festa perché la apparivamo perché gli altri ci vedevano perché l'abito fa il monaco lo sapete che l'abito fa il monaco è bello pensare che la gente ci consideri per quello che abbiamo dentro nel nostro cuoricino di panna ma non è così la prima considerazione che una persona si fa su di voi è valutando come siete vestiti come vi presentate se due casi identici arrivano al pronto soccorso con lo stesso livello di gravità contemporaneamente viene soccorso prima quello vestito meglio nel 99 per cento dei casi se andate a chiedere un prestito e lo fate vestiti come me cazzo con le patate che ve lo danno c'è qualcuno che pensa che l'abito non faccia il monaco se qualcuno non vuole alzare la mano ma lo pensa gli dico sta cosa la prossima volta che vai a fare un colloquio di lavoro vacci vestito da ape maglia vacci vestito da hitler vedi che fine fa il tuo curriculum e se avete ancora dubbi vi porto l'esempio che non ve ne farà avere più la door selection sapete cos'è la door selection perché ma come lo sapevano a catanzaro qui a milano non lo sanno la door selection è la selezione all'ingresso perché ci sapete che sono ci sono luoghi di merda gestiti da persone di merda che mettono uno stronzo all'ingresso che decide chi entra e chi non entra valutando esclusivamente come questa persona è vestita e voi non e voi non immaginate a me quante volte è stato negato l'accesso quante volte io sono stato squadrato dalla testa ai piedi e mi hanno detto tu vorresti entrare qua dentro tu con la canotta i calzoncini da cui si intravede una palla e i sandali oh questa è una chiesa però non è che sono solo vittima dell'apparenza sono anche carnefice cioè pure io tutti giudichiamo delle apparenze o no cioè che tipo c'è un tizio portone di casa stiamo un po' irritati magari un po' terrorizzati perché è enorme poi vediamo che c'ha gli occhiali e ci tranquillizziamo capito mi è capitato vedete che c'ha gli occhiali state tranquilli là come se come se non sappiamo che un sacco di persone di merda portavano gli occhiali nella storia dell'umanità da himmler a andreotti a puffo quattro occhi e l'apparenza nella moda è fondamentale ma in realtà lo è per tutta la società gestisce la società la società si basa esclusivamente sull'apparenza e la cosa incredibile è che uno strumento dei potenti contro i non potenti quando io dico abbiamo capito come funziona ribaltiamola questa cosa usiamo l'apparenza a favore di quelli che generalmente consideriamo la feccia tipo i migranti un migrante x risparmia soldi 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 per anni per affidarsi a degli sciacalli intraprendere questo viaggio della speranza con la paura di morire di stenti di fame di malattia ribaltato annegato io do un consiglio ai migranti aspettate aspettate altri 5 6 mesi mettete altri soldi da parte con quei soldi acquistate l'abito più elegante possibile e fate la traversata con quell'abito voi immaginate la scena barcone che arriva c'è la guardia costiera salvini su uno scoglio non si capisce guardia costiera c'è la guardia costiera loro arrivano c'è il tipo che fa è capitano stanno arrivando e si saranno altri 400 morti di capitano c'è qualcosa che non va stanno tutti sti neri gli uomini con gli abiti armani le donne con il tagliore di vitton tutti che agitano il flutto di champagne che poi piscio in realtà è l'unica cosa non crepando in realtà però quelli non saprebbero come comportarsi il tizio farebbe capitano non sembrano poveri forse è una nuova moda dei ricchi nigeriani secondo me bisogna farli sbarcare li fanno sbarcare a quel punto e là devono continuare a reggere il gioco col portavoce che arriva e fa voilà ma la bamba figa ne abbiamo e a quel punto e a quel punto li mettiamo davvero nell'alberga 5 stelle ma giusto per evitare di fare figure di merda grazie grazie